bella a tutti ragazzi sono elixmax e benvenuti in questo nuovissimo video come vedete sono il titolo oggi andremo a fare un giro epico andremo a vedere cosa uscirà useremo la skin che ci esce quindi sono molto molto curioso speriamo di trovare la nostra prima skin speciale ma sarebbe veramente un sogno un like, un'iscrizione, una campanella cercate elixmax su tiktok, su discord ci sono i link in descrizione se volete fare una piccola donazione primo link in descrizione tutte le donazioni sono apprezzate non ho ancora il mio primo donator vedremo chi sarà e detto questo ragazzi voglio almeno 20 like per questo video veramente andiamo subito a fare la giostra tirata epica 3, 2, 1 andiamo a usare la skin che ci esce prima skin speciale per favore prima skin speciale dammi una skin speciale ma dammi una skin speciale ma per favore si una skin speciale la foxetta mi piace ragazzi mi piace equipaggiamo ora la usiamo ragazzi la foxetta andiamo a fare che bello mi sono contento ragazzi anche se non è una speciale sono contento veramente sono molto contento finalmente ragazzi la foxetta e allora ragazzi andiamo a farci 3 partite andiamo pure a a fare ancora più vittorie vogliamo arrivare almeno a 52 vittorie oggi siamo a 50 andate a vedere il video delle 50 vittorie perché ho fatto delle win ho fatto 3 win di fila in un video no 3 ho fatto 2 win di fila e poi una terza win quindi ho fatto 3 win in un video veramente andate a vedere il video in cui arrivo a 50 win perché è veramente stupendo doppio salto lì la foxetta mi piace mi gusta mi gusta mucho ok doppio salto qua passiamo il più veloce possibile potremmo passare lì ma non credo non voglio rischiarmela troppo sarei riuscito a passare raga no 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 vabbè no raga la prima partita con la foxetta non mi sembra molto molto nice non mi sembra molto nice molto bella proviamo a qualificarci comunque perché tix maxx non si arrende mai 15 like raga per questo non ci credo oh ma come sto giocando la foxetta mi sta togliendo il potere vabbè raga comunque abbiamo ci siamo qualificati settimi non è un gran problema ci mettiamo al secondo game al secondo round rocket trumbull ragazzi sempre rocket trumbull mamma mia in ogni video c'è rocket trumbull veramente mappa che non mi piace per niente anzi alcune volte quando c'è rocket trumbull spengo pure stumble guide e lo riapto perché non c'è rollo di giocarci pensate un po' come sono messo con rocket trumbull proprio una mappa che odio quando esce in live ci arrabbiamo tutti boom starà tutti i due fuori però loro hanno starato me siamo 6 a 4 per noi per ora stiamo vincendo noi ma è solo l'inizio non si può stare neanche 10 secondi dall'inizio del game ancora ci stanno già recuperando ci stanno già recuperando quello lì l'ho buttato giù andiamo qui a prendere il punto ok almeno dai l'ho buttato giù pure io siamo 6 a 5 quindi ci stanno già recuperando molto molto male quello schedetrino ora non so se riuscirà a togliere quell'altro mancano 80 secondi quindi più di un minuto alla fine del game non vedo l'ora che finisce non vedo l'ora di vincere così vediamo il final game lo portiamo a casa il nostro primo game come win andiamo qua a disturbare subito per dare fastidio cercare di prendere il punto dobbiamo dare fastidio dobbiamo stare qua a dare fastidio noi dobbiamo stare qua distrarli dobbiamo stare qua a distrarli dobbiamo distrarli non morire no non morire è morto sono morto mancano 40 più o meno 40 secondi ci stanno un po' recuperando questo è vero eh no ci stanno recuperando un sacco ragazzi ci stanno eh no abbiamo perso raga abbiamo perso di nuovo ma perché devo sempre perdere io su rocket rum perché devo sempre io essere nella squadra sbagliata perché sempre io raga ogni volta raga in ogni video sono sempre nella squadra sbagliata poi mi sparano addosso a me ma cioè vi rendete conto voi non so se vi rendete conto ma 5-4 dai che siamo inventati dai vinciamo sta partita per favore ragazzi please 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 eh 5-4 non ci credo 6-6 dai dai e vabbè ma e te pareva e te pareva perdevo io vabbè ci spieghiamo al prossimo game veramente Rock Tremble fa proprio schifo come mappa lo dico veramente lo dico in video non mi piace per niente veramente una mappa che non mi piace per me è la peggior mappa del gioco e come lo dico con tanti altri anche veramente perdo sempre perché sono sempre nella squadra sbagliata ma comunque non è divertente come mappa poi dopo dura troppo 120 secondi sono due minuti sono veramente troppi per una mappa quindi per me è proprio brutta comunque c'è uscita quindi spero che non ci scappi nel video così ci possiamo divertire un po' pensi che avete un like per favore con la foxette voglio vincere la prima win con la foxette ok ho ricchiato un po' ma me la sono cavata abbastanza molto bene facciamo un dopo salto molto molto tranquillo molto tranquillo dobbiamo fare un altro dopo salto qui molto bene un altro dopo salto qua un dopo salto qua ok ragazzi stiamo giocando molto bene questa partita andiamo con Kama andiamo qua andiamo con Kama andiamo su 100 ragazzi quando ci siamo a secondi noi ci pieghiamo il secondo round mi qualifico pure no 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 mi voglio qualificare flex hand no non riesco proprio adesso basta non mi qualifico normalmente ancora no ragazzi è proprio forte di me oh mi sono qualificato ragazzi ci pieghiamo il secondo round problemi di x max ok ci siamo capiti jungle roll questa si che è una mappa bella come secondo round questa si che è una mappa bella poi l'ho anche masterata adesso volete vedere ok sono passato molto bene no peccato di pochissimo mi è andata via la piattaforma ok molto bene dai siamo abbastanza messi bene dovrei oserei dire che siamo abbastanza messi bene quei due lì sono molto forti potrei riuscire a fare il trick sono riuscito a fare il trick molto bene potremmo qualificarci primi ci proviamo passiamo al centro non ci qualifichiamo primi ci qualifichiamo secondi quindi molto bene ci picchiamo in final game lava land è pay to win ma paraga io non c'ho il pugno non c'ho il calcio come faccio a vincere ok ci proviamo ovviamente ci proviamo ma era tanto che non mi esce la valente sinceramente devo stare molto lontano da tutti devo stare molto lontano da tutti con la nostra foxette che bello sono potente che è l'altra foxette a favore di questo un po' bravo vai via non so se questo qua c'è il pugno se no me lo avrebbe già dato o no ok mamma mia lo stiamo rischiando un po' troppo eccolo lì c'è il pugno non so se c'è il pugno ho un po' di paura sinceramente ok sono qua da solo in questo momento dai con la foxette mamma no lo sapevo raga la valente è molto difficile se non c'è il pugno dai proviamo all'ultima abbiamo l'ultima speranza con l'ultima partita del video ce la possiamo fare raga forse edxmax nei commenti lasciate like se non l'avete ancora lasciata perché non vi costa veramente nulla andate a votare tutti i sondaggi che ho messo vi ricordo un like un'iscrizione una campanella cercate edxmax su tiktok su discord ci sono i link in descrizione se volete fare una piccola donazione primo link in descrizione non ho ancora il mio primo lonator vedremo chi sarà il primo lonator della storia edxmax resterà nella storia allora pain splash di nuovo che comunque ci può stare ok molto bene muy bien doppio salto qui molto bene il trick è arrivato certo che potrebbe uscirci in finale magari un bel pain splash che se lo gioco così bene potrebbe capitare che la vinco ok andiamo al centro poi adesso non mi sono qualificato prima ci qualifichiamo bene raga no ma ho ancora etxmax e i problemi con qualificare no ancora etxmax e i problemi qualificando si no meglio se mi qualifico bene etx allora etxmax e i problemi qualificando si flexando oh l'ho detto finalmente molto bene ci flexiamo in secondo round floor flip me la dai una win stumble guys per favore voglio fare ogni video una win dai ma cos'è quella roba lì che mi esce ogni tanto e te vabbè però mamma mia povero etxmax sempre ste nappe qui mi escono mamma mia non passo neanche o mi esce rock e trambolo o mi esce floor flip adesso mi esce stumble soccer volete vedere andiamo indietro ragazzi se no non passiamo andate indietro mamma mia che mappe che devo usciermi sempre dobbiamo qualificarci io non mi arrendo però raga non credo qualificarmi se non ci qualifichiamo proviamo a fare l'ultima partita del video dai proviamo a farne un'altra per dare l'ultima scienza e il trovo ero etxmax di provare a qualificarsi all'ultima eh in final game almeno in final game almeno vincere ok è passato 5 persone si sono qualificate e adesso si qualificano 8 6 allora ragazzi un altro posto ok sono passato ragazzi sono passato non ci credo non ci credo ragazzi mi sono qualificato non ci credo allora ci vediamo in final game non ci credo che mi sono qualificato ragazzi regola numero 1 di stumble e smile rendersi perché si può fare lava lei no ma che mappe mi stanno uscendo per favore eh ragazzi non ti porterò una win in questo video però almeno abbiamo una bellissima nuova skin epica che mi piace veramente tantissimo una bella foxetta la prima win con la foxetta arriverà ne sono sicuramente sicuro grande foxetta vai avanti ok ok sono passato dai forza foxetta forza foxetta nei commenti dai insomma concentrarti che potrebbe essere la win ragazzi non so fare i trick lo so pure io quindi non ditemi che non faccio i trick perché lo so e ovviamente non ci credo ragazzi non la vinco ragazzi quello lì è andato dietro ragazzi l'ho visto quello lì dai no no magari no magari mi trollava non riusciva non riusciva a vincere non ci credo ha vinto trallo 6.0 non ci credo mi stava trollando speravo che avrebbe perso no vabbè vabbè ragazzi abbiamo fatto un giro epico abbiamo trovato la foxetta sono contento di questo sono contento di questo ragazzi la win non è arrivata ma è arrivata la foxetta quindi siamo contenti uguali la foxetta è meglio di una win un like un'iscrizione una campanella cercate edxmax su tipico su discord ci sono i link in descrizione se volete fare una piccola donazione primo link in descrizione non ho ancora il mio primo donator vedremo chi sarà detto questo vi mando un bacio e ciao a tutti un like un'iscrizione una campanella attiva su tutte le notifiche ciao ciao a tutti ragazzi grazie mille di aver visto questo video